Maranello celebra il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con installazioni e eventi. In Piazza Libertà e alla biblioteca Mabic sono state collocate delle sedie rosse con l'hashtag Il Posto di Chi Manca per testimoniare la tragedia delle tante donne che ogni anno muoiono per mano di uomini violenti. I loro nomi e le loro storie sono raccontati nei biglietti appesi all'albero in Piazza Libertà, mentre il Mabic accoglie le frasi proposte dai ragazzi del centro giovani e dedicate al tema della violenza sulle donne. È un'iniziativa che vuole far riflettere la cittadinanza, abbiamo scelto un luogo di passaggio per far sì che le persone riflettano sul fenomeno, sull'ampiezza di questo fenomeno e sulla necessità di sensibilizzare e di imparare che esistono tanti servizi che le donne hanno la possibilità di denunciare e quindi dobbiamo rafforzare quelli che sono gli anticorpi sociali che ci possono dare una mano per contrastare questo fenomeno molto in aumento e che ci preoccupa notevolmente. Il Posto di Chi Manca è fisicamente riservare un posto a chi non può essere qui con noi, un posto per simboleggiare la vicinanza a quanto subito da queste donne, per ricordarle e portarle sempre insieme a noi anche durante queste iniziative riferite al 25 novembre. Tra le iniziative in programma giovedì 22 la proiezione gratuita del film Libere e disobbedienti innamorate, sabato 24 l'open sport con ingresso gratuito per le donne ai corsi di nuoto, acquagym e fitness, infine in biblioteca la mostra manifesto e la presentazione del libro Il Femminicidio. Il Femminicidio.